Che carino è qui! Vero? Prego, prego! Grazie! Una bella palestra! E questo è il mio piccolo regno Non ce faccio entra mai nessuno, eh? Ma visto che sei quasi una collega Che? Una collega io? Eh beh, mi ha detto Simona Chi è te? Insomma, facciamo lo stesso lavoro, no? Ah, così Simona le ha detto che mi interessa di culturismo Eh, mi ha detto che vai sempre in palestra a Milano E che sei come dì, inesperta di building Visto che stenzione? Complimenti Senti un po', ma qual è il muscolo che ti piace di più? Veramente? Lo vuoi vedere? No, la prego Forse è meglio aspettare un attimo, no? È il deltoide Che ne dici del deltoide? Ah, il deltoide Il deltoide Guarda un po', il muscolo è bello quando è gonfio Deve essere bello tosto Non mi tocca? No Sto in tensione Guardami nelle palle dell'occhio Che ci vedi? Cosa dovrei vederci? Dillo, dillo Gli steroidi forse? Sì Eh, no Ti stai a sbagliare Io mi chiamo il siringo Nell'occhio mio c'è l'intelligenza del muscolo Davvero? E il desiderio? E il desiderio non ci vuoi dire? Eh, sì Sì, mi pare Almeno, spero Sta tranquilla che c'è Spogliate, va Come? Così subito? Voglio vedere come stai messa sotto Ma... Io veramente non sono mica abituata così E non mi spogliate Non ti fatti la garzitta, no? Ma senza neanche qualche preliminare Non mi freddo Ok Girete? Ok La struttura muscolare non sarebbe male Un po' tesa, incordata Troppo rigida Parincitriolo Mo ti sciorgo io, va È tanto che non lo fai, vero? Beh, insomma Quattro, cinque mesi Sa, mio marito in questo periodo È stato un po' latitante Lo facevate assieme? Eh, sì, per forza Io sempre da solo Perché mi dà più gusto Ah, ma allora lei è proprio un egoista Con tutta questa materia Sa quante ne farebbe felici? Allora, volemmo cominciare a provare qualche posizione? Quante ne conosci? Beh, tre Quattro Le tradizionali Quelle sole? Sa, mio marito non aveva grande fantasia Perché lei ne conosce di più? Ma 85, 90, voglia fa... Caspita, davvero? Oh, io non sono mica dilettante Io sono professionista, sa Ma allora... Ne avremo fino alla prossima estate In principiamo Eh, ma... Mettete in posizione E dove? Qui? Allarghi a gauche Ma come? Qui? Così? Con questo coso? Oh, ma allora non sai proprio niente Simona mi ha detto carina esperta Eh, le amiche esagerano sempre Senta, ma... Non so come si è abituato lei Ma... Vede? Io sono un po' all'antica Non si potrebbe cominciare sul letto? Sul letto? Ma che ci vuoi fare sul letto? E perché lei su questo aggeggio che cosa ci vuol fare? Il bodybuilding, no? Il bodybuilding Che ti fa ridere? Mi scusi? Ma... Io ho franteso tutto Ma... Che avevi franteso? Vede? Io non ho mai frequentato una palestra a Milano E a me della ginnastica non interessa proprio niente Davvero! E se lo vuole sapere I muscoli Mi fanno anche impressione Ma che ci sei venuta a fare allora? Semplicemente L'amore Ecco chi? Con me? E... E non puoi fare un scienziato prima? Vuoi scopare? Si può fare Pure subito Mi scusi Io sarò una dilettante Ma lei davvero professionista Mi vuole spiegare cosa sta facendo? Non lo vedi? Mi metto gli guanti e il camice protettivo Anzi questi sono per te Tiè Mi raccomando eh Niente baci in bocca Lei fa l'amore coi guanti? E conciato così? E te credo che mi concio così? Con tutte ste malattie mortali che girano Mi metterebbe pure uno scafandro io Mica vorrei scopare vestito Ma andò? Me ne vado E subito Ma che ti senti male? Ah no Io Sto benissimo io E lei che sta male E molto Poi se la guardo bene Negli occhi Gli steroidi Ce l'ha proprio E non solo lì Ce l'ha anche qui Nel cervello E si vedono Come fate a vederli? Come fate a vederli?